Mia Cerran, benvenuta su The Way Magazine. Grazie. Tu sei ormai una vedetta della domenica, sei stata riconfermata. Spiegaci che cosa farete quest'anno. Tutti e tre, la squadra di quelli che calcio oramai consolidata con Luca e Paolo, con tutta la squadra, Ubaldo Pantani, Missa Greta Marchetto, tutti i nostri comici. Continuerà ad essere una domenica leggera, con il sottofondo tipicamente italiano delle partite e tante risate, questo è il nostro obiettivo che è. Ci avrebbe colpito particolarmente la tua presenza al Festival di Sannolo qualche mese fa, però non te eravamo... Ah, vedi, avete occhi dappertutto, veramente. Sì, sì, conoscivo alcuni degli organizzatori, alcuni sono degli autori che stimo molto e quindi sono andata a vederli e mi sono molto divertita, devo dire. Grazie, Mia. Grazie a voi.